e bellissimi ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su scary teacher sì comunque è una cosa del genere dovrebbe essere lo scary teacher ok cosa facciamo questo primo altro sì dovremmo fare questa qua la charier mod ecco chapter one surprise trap allora questo è un gioco dove praticamente una maestra cattiva c'è capito bene la trama dovrebbe tipo trattare male i suoi studenti e quindi loro si li fanno scherzi allora ok praticamente li dobbiamo fare male con una trappola per tope ok allora vai ok press prendi ok ora ce ne dovremmo andare ragazzi io allora non l'ho giocato però ho visto dei video quindi ok vabbè dicevo non l'ho giocato ma ho visto dei video quindi più o meno so come dovrebbe funzionare il gioco ok ok vabbè pubblicità che non non sponsorizzo ragazzi li sponsorizza il gioco quindi niente allora allora metti del sale nella colazione in che senso colazzi vabbè ok allora dove la porta la colazione sul tavolo allora ha messo un lucchetto peccato anche io ok abbiamo speso tutti i soldi però eh vabbè dov'è devo capire dov'è forse non dovevamo andare nella cucina sta già qua il sale scappiamo 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 andiamo andiamo ok perfetto nice allora aspettiamo che va a mangiare ok vediamo se abbiamo fatto lo scherzo no che schifo vabbò next altra pubblicità che noi chiudiamo dobbiamo tipo sabotare il suo horror show preferito non ho capito questo qui sembra il più fastidioso ok sì infatti stella ok 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 ci nascondiamo qui allora tv room vediamo ok è triste perfetto next altra pubblicità allora dobbiamo forse ho capito dobbiamo tipo rovinare il suo abito da feste in maschera o qualcosa del genere ok allora vediamo che ora io non so qual è ora la stanza però eccolo questa 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 eccolo posto scappiamo dalla finestra ragazzi ragazzi poi ditemi se ci vuole se volete anche che ci porti che ci porta una serie ok ok è triste c'è abbastanza ok ok allora allora ora 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 Allora Non ho capito che bisogna fare. Pin, cos'è pin? Aspetta. Ok, abbiamo capito cosa c'era bisogno di fare. Rimaniamo qua. Lei ora dovrebbe andare appunto a sedersi. Vediamo che reazione ha. Leggermente ambigua. Ah, ok, si poteva schippare, non me ne era accorto. Ok, dobbiamo liberare il suo gatto. Perfetto. Ora, in che stanza è il gatto? Raga, ma tiene tutte le porte aperte? Viene di qua, quindi suppongo che sia... Ok, sia in questa stanza. Ok, ci ha catturato. E noi siamo stati abbastanza veloci. Non ti posso salvare. Non guarderò un video. Anche se ce lo farà a guardare comunque. Però vabbè. Allora, quindi dobbiamo salvarle e scappare. Ok, so come fare. Perfetto. Schippiamo. Dove schippare? Non credo. Allora, saliamo sopra. Lasciamo finestra e porta aperta. Anzi, per precauzione le apriamo tutte e due. Ok, possiamo andare. Ok. Apriamo una porta. Cos'è successo anche? Ok, perfetto. Siamo scappati. Ragazzi, io direi che per oggi... No, abbiamo fatto next. E vabbè. Direi che per oggi può bastare. Ora, se ci fa andare in home, andiamo. Se no, facciamo quest'ultimo. Voi, se il video vi è piaciuto, lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E non ci fa andare in home. Credo. Quindi facciamo anche questo. Ehm... Cosa dovremmo fare precisamente? Mi sono dimenticato di leggere. Ah, il suo compleanno. Ok, capito. Vabbè. Roviniamoli il compleanno. Io sto provando tipo a fare parkourer. Ah, è andata in kitchen. Cos'è sta cosa che vuole? Ma che cacchio sta facendo? Mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto. Vabbè. E niente. Anche questo scherzo è andato bene. Ragazzi, direi che per oggi può bastare. Vi ripeto di iscrivervi. Lasciate like e attivate la campanellina se il video vi è piaciuto. Per non perdervi gli altri. E... Mi darete un grande supporto. E... Altro che dire. Non c'è. Ciao.